Il mio consueto ben trovato al pubblico di Blog Sicilia per un altro appuntamento, un nuovo appuntamento con Talk Sicilia che inaugura quelle che saranno le puntate speciali in vista delle elezioni regionali anticipate del 25 settembre. Cominciamo a parlare di queste elezioni con uno dei candidati a Presidente della Regione, Gaetano Armao, attuale Vice Presidente della Regione. Buonasera, grazie per essere qui con noi, che è già stato ospite dei nostri studi nella sua veste di Vice Presidente della Regione e di Assessore all'Economia, ma oggi viene in qualità di candidato Presidente della Regione per il terzo polo, lo possiamo dire senza nessun tipo di problema fondamentalmente. E quindi con lui cominceremo ad affrontare quelli che sono i temi di cosa serve alla Sicilia di domani, oltre a parlare naturalmente di politica e di tutto quello che sta succedendo in Sicilia. Questo è forse il mese di agosto che sarà ricordato come il più difficile e il più caldo della politica siciliana, almeno è così. Non solo come temperatura. Non solo come temperatura, da un punto di vista politico sarà ricordato questo mese. Assolutamente sì, ma credo che questo è un agosto caldissimo anche a livello nazionale. Non si era mai vista una campagna elettorale avviata in pieno agosto, con le liste compilate in pieno agosto. Quindi ha un'anomalia che trova fondamento nella scelta del Presidente della Repubblica di portare il Parlamento ad insediamento entro la metà di ottobre e poter consentire quindi di verare la legge di bilancio dello Stato senza ricorrere all'esercizio provvisorio. E' una scelta del Presidente Musumeci di opportuna, assolutamente opportuna, di far coincidere le elezioni nazionali con quelle regionali per evitare uno stop alle scuole di più di un mese. Una delle cose che abbiamo scritto in questi giorni quando è arrivata la candidatura di Gaetano Armalo è stata ufficializzata, l'avevamo anticipata qualche giorno prima in realtà, poi è stata ufficializzata, una delle cose che abbiamo scritto, adesso chiediamo conferma all'iletto interessato, è che questa candidatura è stata possibile dal fatto che Musumeci comunque si fosse ritirato. Sì, questa è una precisazione che ho dato immediatamente quando sono cominciate le interlocuzioni con Carlo Calenda, che è l'artefice di questa candidatura, perché chiaramente non avrebbe avuto senso correre contro un Presidente che legittimamente si riproponeva per la conferma del mandato per il secondo mandato elettorale. Il centro-destra ha scelto una via diversa, credo che ancora molti aspettano di capire il motivo, ma io ho fatto delle scelte conseguenziali anche dovute all'irrespirabilità dell'aria dentro Forza Italia Sicilia. E infatti questa era la domanda successiva, sei stato assessore, e tuttora sei stato assessore, nominato in quota Forza Italia, anche se con Forza Italia non c'era una decisione via diretta, ma c'è stato un rapporto burrascoso dentro Forza Italia, quindi questa scelta di candidarsi all'esterno, di lasciare di fatto quel percorso? È una scelta che è il fatto che sostanzialmente quella casa politica che aveva e che enuncia ancora l'opzione moderata, l'opzione di un investimento politico sul futuro della Sicilia, poi si è sciolta, almeno in Sicilia, nella polemica continua tra governo e Parlamento, nella insostenibilità della posizione di un Presidente dell'Assemblea che era contemporaneamente il vertice del partito o di una posizione del partito, tant'è che nella conferenza stampa di fine mandato sia stato detto che c'erano rapporti pesantissimi con tre, di assessore su quattro, quindi evidentemente era un clima che non lasciava presagire nulla di buono, non si può fare politica pensando di servire la propria terra e soprattutto servire i siciliani alzandosi la mattina con le polemiche, ci vuole un clima sereno, ma soprattutto un clima che riguardi come sta facendo il terzo pollo al futuro dell'Italia, al futuro della Sicilia, a valori come quelli riformisti, come quelli liberal socialisti, come quelli cattolici che insieme possono aggregare una proposta centrista che certamente non ha nulla a che vedere con le estreme che paradossalmente in questo bipolarismo che sta diventando una camicia di forza per la politica italiana spingono sempre di più i poli a concentrarsi sulle estreme e non siano sulla convergenza al centro. Questa è l'opzione centrista che trovo convincente e che ha dato luogo alla intuizione di Carlo Calenda, di Matteo Renzi e di Italia Viva che ha dato luogo con azione alla proposta politica alla quale ho aderito. Ecco, prima di entrare adesso nelle proposte che Gatornao porta per la regione siciliana, quello che secondo lui bisogna fare per la regione siciliana nell'immediato futuro, prima di arrivare lì, la domanda delle domande, ovvero quante possibilità ha il terzo polo realmente di incidere? Un polo che peraltro vuole essere anche un centrista, sì, ma riformista. Assolutamente, l'idea è quella di creare una forza politica anche in Sicilia con un radicamento e in una storia, non dimentichiamo che il Partito Popolare ha avuto origine da un siciliano e da un'elaborazione originata a Caltanissetta da Don Sturzo, che la democrazia cristiana è nata a Caltanissetta, quindi che l'opzione di una ispirazione cristiana nell'impegno in politica, di un riformismo e di un forte approccio liberale anche nella visione della politica può dare una linfa nuova alla politica italiana che, ripeto, in questo bipolarismo si è sempre più estremizzata senza riuscire a interpretare l'ansia e l'ambizione di molti cittadini che è quella di un'opzione moderata, di un'opzione centrista, di un'opzione che guardi alle riforme senza dover necessariamente tener conto dei populismi o di tener conto di opzioni o proposte che parlano alla pancia degli italiani e non alla loro testa. In un'intervista di qualche giorno fa Renato Schifani, il candidato dal centro-destra, però ha definito il terzo pollo inutile. Guardi, questa cosa del voto utile è una sintesi che credo sia voto utile per chi lo propone, sarebbe un voto inutile per loro quello dato al terzo pollo, ma un voto utile per gli italiani, è chiaro che non è utile per chi chiede il voto di nuovo a un centro-destra, che ripeto si è estremizzato, mentre la proposta centrista è una proposta che guarda alle esigenze di una comunità che deve puntare al dialogo col Paese, al dialogo con l'Europa. La vicenda che ha portato, io sono stato assessore all'economia, adesso svolgiamo soltanto l'ordine di amministrazione, quindi praticamente si sta chiudendo l'attività di questo governo, l'interlocuzione con il governo nazionale e con l'Europa ha portato da un lato la vicenda della condizione di insularità, che è un dato oggettivo, importante per la Sicilia, che ha visto la Sicilia protagonista in Italia e in Europa, di una battaglia che conduce alla costituzionalizzazione del principio di insularità e delle misure perequative necessarie che lo Stato deve mettere in campo. Si è cominciato già con 100 milioni di Euro all'anno, con la perequazione infrastrutturale si faranno altri passi in avanti. E dall'altro le misure finanziarie importanti che col governo Draghi sono arrivate in Sicilia, con il negoziato che ho condotto anche personalmente con il Ministero dell'Economia. La legge sulle variazioni di bilancio ha avuto a disposizione quasi un miliardo di Euro, frutto di un negoziato positivo col governo Draghi. Il governo Draghi ha fatto sì che in Sicilia arrivassero risorse del PNRR che facessero della Sicilia la prima regione italiana per destinazione di risorse del PNRR. Questi sono dati oggettivi. Purtroppo qualcuno ha deciso di staccare la spina del governo Draghi assumendosi la responsabilità di questa scelta. Scelta che non è stata condivisa da tanti esponenti di Forza Italia. Faccio riferimento a Stella Germini, faccio riferimento a Mara Carfagna, allo stesso Renato Brunetta che ha deciso di non aderire a alcuna forza ma che si è distaccato da questa scelta non lungimirante, di interrompere il cammino del governo Draghi che oggettivamente dava credibilità al paese e dava interlocuzione positiva alla Sicilia. Una delle sfide di questi anni, degli ultimi anni di governo, quelli che si sono vissuti è stata quella dell'insularità. Una sfida parzialmente vinta, perché dico parzialmente perché adesso bisogna portare le risorse che ne derivano. È una delle prime cose a cui badare quando si inserirà il nuovo governo? Assolutamente sì, la condizione di insularità è una condizione che fino a qualche anno fa non era neanche lontanamente presente nel dibattito politico. Oggi nell'agenda politica basta vedere alcuni facsimili di candidati che regano condizioni di insularità e insularità come elemento positivo su cui incentrare il confronto con l'elettorato. Questa è una battaglia che è stata prima che politica e culturale per far scoprire alla Sicilia la sua centralità mediterranea e rilanciare l'insularità come elemento che giustifica la specialità dello statuto. Questo è solo un elemento importante perché questo vuol dire continuità territoriale, cioè il prezzo dei biglietti aere, il prezzo dei trasporti marittimi, ma anche infrastrutture, fiscalità di sviluppo. Si è creata la base costituzionale per pretendere ancora di più dallo Stato e dall'Europa, ma è questa una battaglia importante che ha visto già un riconoscimento ma che non può essere esaustiva della proposta politica, che a mio avviso oggi deve tener conto dei tanti, troppi giovani che hanno lasciato la Sicilia, dei tanti, troppi talenti di cui la Sicilia si è privata perché non ha offerto un'opzione di lavoro, un'opzione di crescita per poter far sì che si possa realizzare un'impresa, un'iniziativa imprenditoriale, un'iniziativa professionale. Ecco che uno degli obiettivi prioritari della nostra proposta politica è proprio quella di un piano straordinario del lavoro in Sicilia, di un rafforzamento delle opportunità fiscali e delle opportunità delle zone economiche speciali proprio per favorire giovani imprese, nuove imprese, capacità e possibilità per le persone che hanno valori, idee, entusiasmo e talento per iniziare attività qui e lavorare da qui in tutta Italia e in tutta Europa. La digitalizzazione che si è portata in porto non è un dato sconosciuto quello che vede la Sicilia avere il 60% dei comuni digitalizzati, il doppio della Lombardia e del Vento. Abbiamo fatto un lavoro concentrato sulla digitalizzazione perché la creazione di un'infrastruttura digitale è la base per poter consentire il lavoro a distanza, per poter consentire alle imprese siciliane di essere competitive rispetto a una distanza che inevitabilmente ci vede lontani dai centri nei quali si smistano le merci, si smistano le informazioni, si smistano le competenze. Ecco allora il digitale consente la mossa del cavallo alla Sicilia, la insulerità consente di individuare infrastrutture e risorse e vantaggi fiscali per poter rendere più competitive le imprese con una mossa a tenaia si deve costruire un nuovo progetto di rilancio per la nostra Sicilia che dia soprattutto lavoro, che è la prima delle esigenze dei nostri concittadini. E poi il tema della crisi che si è frammista alla crescita. La CGA di Mestre che è una delle strutture che fa ricerca economica avanzata nel nostro paese ci dice che la Sicilia è la quarta regione italiana per crescita economica nel 2022. Il lavoro fatto all'Associato dell'Economia è un lavoro che sta apportando importanti risultati. Questo però non basta perché abbiamo alle porte una crisi che già fa sentire il suo morso con il caldo dell'energia, con gli effetti post-pandemici, con una crescita dell'inflazione, con una crescita dei tassi di interesse, ma soprattutto un autunno che ci aspetta che non sarà dei più facili. Per far questo occorre intervenire sul prezzo delle bollette, sul prezzo dell'energia, sul costo dell'acquisizione delle materie prime che determina un effetto di avvitamento della stessa economia, che non trova più risorse per completare le infrastrutture, per completare gli interventi. Il 110% è l'esempio emblematico di una misura che voleva aiutare e che sta paradossalmente danneggiando le imprese. Lo ha detto anche il Presidente Draghi nel discorso di commiato alle Camere. Su questi temi bisogna intervenire velocemente, già da settembre, immediatamente dopo le elezioni, perché è impensabile che le imprese che hanno avuto degli incentivi durante il periodo del Covid, che hanno potuto accedere a una fornitura di credito agevolato, poi oggi si trovano in un autunno in cui i prezzi dell'energia portano fuori mercato molte imprese, penso dal panificio a chi produce ceramiche, a chi produce attività utilizzando energie e quindi raddoppiando triplicanti costi anche i semplici ristoranti e poi dall'altro questa marea di cartelle che arriverà da qui a fine anno, di cartelle esattoriali che certamente non può mettere in ginocchio il sistema economico del Paese. Quindi ci vuole un approccio integrato, dialogante con il governo del Paese, che non è fatto certamente di estremismi o di immaginari abbassamenti della pressione fiscale. Facile dire faremo una tassa piatta del 15%, se i costi di questa tassa piatta arrivano all'80-90 miliardi di Euro d'anno, bisogna trovare del senso per coprire, quindi è necessario che quando si fanno le proposte siano proposte integrate, siano proposte assolutamente convincenti. Bisogna fare presto quindi per intervenire, ma uno dei grandi problemi che si sono vissuti nell'uno della scorsa della legislatura è stato proprio quello dei ritardi, soprattutto nell'approvare bilanci e così via dicendo. E riforme, perché in Assemblea c'è stato un clima, ripeto, fortemente determinato e condizionato da questo rapporto tra il governo e l'Assemblea, nel momento in cui una parte politica governa anche i processi sessionali dell'Assemblea e lo fa come posizione politica e non come vertice di un organo parlamentare, è evidente che poi si innestano polemiche, critiche e si appesantisce il clima. E poi il dato drammatico, vergognoso, del voto segreto. Ai cittadini ovviamente importa poco di queste cose, però devono sapere che la Sicilia è una democrazia da terzo mondo, con un voto segreto che si può chiedere su qualsiasi cosa, su qualsiasi posto di bilancio, su qualsiasi norma anche la più generale. Per farci capire da chi ci segue, il voto segreto in buona stanza è quello che permette, se è supportato da una richiesta di insieme a 5-7 deputati, di votare senza che sia palese chi vota come, in modo che ciascuno possa votare senza rendere noto, senza assumersi la responsabilità di ciò che decide di votare. Cosa c'è di segreto per esempio nell'ultima norma che si è votata con le variazioni di bilancio, io ho abbandonato polemicamente l'Aula, cosa che non è mai accaduto in 9 anni che ho seguito questi lavori parlamentari? Perché? Perché abbiamo portato una misura concordata con il governo Draghi che prevede circa 450 milioni di Euro di risorse che possono andare al Comune di Palermo, al Comune di Catania per l'emergenza rifiuti e sanitarie, che credo sia sotto gli occhi di tutti, e agli altri comuni siciliani, sia maggiori che minori, per interventi finanziari assai consistenti, nonché per i costi energetici delle aziende sanitarie che stanno crescendo a dismisura. Bene, qualcuno si è alzato, ha chiesto il voto segreto e questa norma è stata bocciata solo perché vi era una polemica nei confronti del governo o perché si voleva portare una cifra di qua e una cifra di là. Ecco, vedete, questo è l'esempio emblematico di come non deve funzionare un Parlamento e di come solo la Sicilia, a mia conoscenza, io insegno diritto pubblico e quindi queste cose le ho studiato da 40 anni, ebbene, non ravviso a mia conoscenza un Parlamento che possa votare a voto segreto su qualsiasi cosa o su qualsiasi misura. Si può votare a voto segreto sulle persone, su alcune questioni delicati che riguardano le coscienze, che riguardano l'etica, ma non certamente su questioni che riguardano cosa c'è di segreto nel dire sì o no a una cosa del genere. C'è solo un po' di vigliaccheria che il voto segreto riesce a coprire bene. Questa è una delle priorità che chiederò agli altri candidati alla Presidenza della Regione. Facciamo un accordo per cui la prima norma che deve andare in variazione è quella del regolamento dell'Assemblea che riporta il voto segreto a quello che è nel resto d'Italia, d'Europa e del mondo avanzato. E poi il tema del voto in blocco sul bilancio. E' inaccettabile che sul bilancio si continui una negoziazione defatigante, prima in Commissione bilancio, poi nelle Commissioni, poi in Parlamento. Per cui il bilancio è oggetto di strattoni, proposte, soltrazioni, addizioni e ne viene fuori una massa informe che poi è difficile da gestire e allunga i tempi con gli esercizi provvisori. Mentre invece sarebbe giusto e utile che, fermo restando l'apertura del dibattito, in sé nella Commissione bilancio, nella quale tutte le forze politiche possono esprimere le loro proposte, sulla delibera della Commissione bilancio che approva quella proposta di bilancio, poi si va in Assemblea e o si vota a favore o si vota contro, in blocco. Se si vota contro il governo deve prendere le dovute conseguenze, deve prendere le dovute decisioni, perché chiaramente è un voto contrario dell'Assemblea che in qualche modo esprime una maggioranza. Ritenere che su ogni posta di bilancio si alza il deputato, ne convolge altri quattro, perché non riguarda l'associazione amica, il comune amico o l'ente amico e si chiede il voto segreto per poi far cadere una posta di bilancio a spostarla altrove, è un modo incredibile di assumere decisioni pubbliche. A parte questi che sono i grandi temi che pone Gaetano Armao nella sua campagna elettorale, molti dei quali però, diciamolo, sono molto tecnici anche se importanti, quali sono? Le riforme di fatti non passano, perché le riforme perdono organicità, perché il governo arriva con una riforma, l'Assemblea lo esamina in commissione dove c'è un lavoro molto strutturato, facciamo la riforma dei rifiuti, non sono cose lontane dalla vita dei nostri cittadini. Ecco, questo volevo che si spiegasse. La riforma nel settore dei consorsi di bonifica, del settore delle acque, nel settore dei rifiuti, quindi cose che toccano la vita di ogni giorno, perché la regione ha competenze che altre regioni non hanno, perché la Sicilia è una regione a saluto speciale. Bene, su queste cose dobbiamo avere la possibilità di non avere il voto segreto e di avere una capacità di decisione veloce che dia risposta alle attese dei nostri cittadini. A parte questo, che naturalmente è importante, si deve fare, quali sono le cose dirette che Gaetano Armao propone perché il cittadino X decida di votare lui piuttosto che un altro dei 5 o 6 candidati, perché ormai non ho ancora da definire, ma potrebbero essere anche 6 i candidati del Presidente della Regione. Quindi possono crescere. Ancora sono 24 ore forse. Appena scadranno i termini per la presentazione della lista dei Presidenti, si vedrà, ad oggi dovrebbero essere 5 fino a questo momento. Fino a questo momento credo che siano 6 perché c'è anche un candidato di siciliani liberi, Liana Esposito, lo diciamo che abbiamo anche invitato, vi tentate per ascoltarlo. Il tema è intanto la rivendicazione dell'autonomia siciliana in pieno e delle competenze finanziarie, cosa che in parte siamo riusciti a ottenere dallo Stato, ma che poi da una parte il Covid ha dilazionato alcuni negoziati, dall'altro l'interruzione anticipata della legislatura non ha consentito di definire. La Sicilia ha una competenza speciale, ha un'autonomia speciale, che deve essere una risorsa per i siciliani, non un peso. Non perché il Parlamento costa più degli altri consigli regionali, o non perché ci sono assessorati che hanno la forma dei ministeri, anziché quelli delle altre regioni che sono più simili a quelli dei comuni. Non sono queste le differenze che interessano. Interessa un'autonomia responsabile, un'autonomia che sappia essere un'opportunità per ogni siciliano, che possa consentire di attrarre risorse, ma anche di dare riforme che sono essenziali per modernizzare la nostra Sicilia. Vogliamo attrarre investimenti, lo possiamo fare attraverso le zone economiche speciali, ma chi viene in Sicilia per investire deve trovare un ambiente, come si usa dire oggi un ecosistema, che consenta di trovare centri di ricerca, di trovare una situazione di legalità strutturata che non espone al racket o altre forme di coazione, che trovi infrastrutture che consentano servizi stradali, autostradali, porti, aeroporti, interporti di livello europeo. La Sicilia è una frontiera d'Europa, ma mi avviso ha tutte le opportunità per diventare cerniera d'Europa. È al centro del Mediterraneo con una valenza strategica straordinaria, che è data dal fatto di essere al centro dei trasporti mariti, ma anche di essere al centro delle connessioni digitali che degli stati di Dio vanno verso l'Oriente. Quindi su questa piastra digitale straordinaria si può innescare un meccanismo di realizzazione di attività imprenditoriali nuove, di dialogo tra l'Europa e il continente africano, che già i fondatori dell'Unione Europea vedevano come il continente del futuro. Non dimentichiamo che ci sono paesi come la Nigeria che avranno 600-700 milioni di abitanti tra qualche decina d'anni. La Sicilia ha una tendenza, come l'Italia ha reso d'Europa, all'invecchiamento, allo spopolamento e al pesantimento della situazione economica. Se non reagiamo attraverso una proposta di raccordo con il Maghreb, con tutta la fascia costiera dell'Africa, rischiamo di essere soverchiati da una movimentazione quasi biblica di popolazioni che non possiamo certo fermare con qualche barriera, qualche nave messa al limite delle acque territoriali. Dobbiamo avere una visione di interlocuzione e di scambio, di connessione con le università, con i centri di ricerca, con le joint ventures tra imprese, come nel settore della pesca, nel settore dell'agricoltura. E questa è la vera opportunità che occorre guardare proprio per far sì che i nostri giovani trovino in una Sicilia così opportunità. Le ultime due cose, le imprese che vogliono investire, sì, possono trovare le occasioni dalle zone economiche speciali, possono trovare anche i centri di ricerca, ma devono anche trovare una situazione che non sia quella di una burocrazia paludata che li blocca. Questo è un dato oggettivo. La riforma burocratica che in qualche modo si è fatta sul piano delle procedure, deve essere completata sul piano dell'organizzazione. L'organizzazione della regione siciliana è un'organizzazione pletorica in periferia e troppo magra al centro, dove si assumono le decisioni più rilevanti, dai fondi europei agli incentivi per le imprese. Noi in qualche modo, come assessor d'economia, abbiamo risolto il tema attraverso il ricorso all'IRFIS. Non dimentichiamo che l'IRFIS faceva 7 mila pratiche l'anno, oggi ne fa 70 mila, quindi è cresciuta 10 volte per attività e molte imprese si sono rese conto dell'opportunità che attraverso l'IRFIS si può dare e si possono offrire al sistema delle imprese. Però è necessario anche un sistema di semplificazione, di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di fluidificazione delle decisioni e un sistema, scusatemi se ci torno, di legalità. Sono d'accordo con il processo Falcone, il tema della legalità sta assumendo un ruolo assolutamente marginale nel dibattito politico, come se la mafia fosse scomparsa, come se questa terra nei 30 anni e i 40 anni dalle stragi che ci sono state avesse in qualche modo dimenticato che questo pericolo, questo serpente è dietro l'angolo e che quindi bisogna tenere altissima la guardia nella formazione delle liste, nella formazione delle proposte politiche, nella formazione dei quadri dirigenti dei partiti, perché è pericolosissimo dire che ormai siamo come l'Olanda e che quindi è un tema assolutamente marginale. Questa è una terra che la mafia ha tentato di distruggere, ha saccheggiato, perché la ricchezza della mafia è corrisposta all'impoverimento delle persone e dei territori. Dobbiamo tenere altissima la guardia, puntando a crescere economicamente, ma a tenere questo serpente lontano dalle nostre pelli. Infine una provocazione, perché alla fine una provocazione devo sempre farla a chi viene in questi studi per raccontarsi, ma i colonnelli di quelle che sono le due forze che compongono questo terzo polo in Sicilia, stanno mettendo impegno e faccia? Guardi, io oggi ho incontrato le categorie produttive, perché per la prima volta abbiamo deciso non di presentarci con un programma, ma di formare un programma sulla base delle istanze, delle richieste, dei problemi che vengono prospettati da chi innerva la società, da chi vive in mezzo alle categorie produttive, ai lavoratori, alle cooperative e quindi conosce in fondo i problemi e le ansie, ai bisogni di chi produce e di chi crea lavoro vero, perché lavoro vero lo dà solo l'impresa, non lo danno nel precariato, nelle offerte di lavoro che tanti pensano di inventare soprattutto sotto periodo elettorale. Al riguardo ho diramato una direttiva che blocca tutte le procedure di bandi che cominciavano a arrivare giusto giusto in campagna elettorale da parte di qualche società partecipata, se ci si fermi i bandi saranno pubblicati i primi d'ottobre, se ci si ferma un mese non succede niente, ma l'idea che si faccia campagna elettorale con bandi aperti è una cosa assolutamente inaccettabile. Poi l'esigenza di lanciare una proposta di amministrazione che risponde effettivamente ai cittadini a cominciare dal dibattito politico, io francamente non sento discutere di problemi nella Sicilia, sento discutere di poltrone, quello va, quello viene, quello torna, quello va, mettiamo questo qui, mettiamo questo lì, ma quando è che si comincia a discutere di temi e di problemi? Noi siamo pronti. Bene, grazie a Bertano Armao che all'ultimo si è affogato, però va bene così, ci ha raccontato quelle che sono le sue idee per la Sicilia di domani, naturalmente noi gli auguriamo in bocca al lupo per questa campagna elettorale, vi ringraziamo per averci seguito, ascolteremo tutti gli altri candidati, quindi appuntamento al prossimo Talk Sicilia.